Commedie, azione, fantascienza, thriller, cult. YouTube offre un'ampia gamma di film per tutti i gusti, facilmente acquistabili direttamente dal sito. Ecco come fare. La gamma di possibilità tra cui scegliere è davvero vastissima. Dalla commedia all'horror, basta cercare su YouTube la sezione film e programmi e poi sfoglia, dove i film sono divisi per genere cinematografico e infine scegliere cosa guardare. C'è a disposizione l'opzione Le migliori offerte della settimana, che mette in vetrina i titoli più scontati della settimana. In caso si avessero dubbi, si può vedere direttamente il trailer per una scelta più ponderata, oltre che consultare la scheda della pellicola che spiega trama, durata e cast. Esiste anche l'opzione Noleggio. YouTube dà la possibilità di vedere un film per 30 giorni di tempo da quando viene ultimata la transazione e 48 ore da quando si clicca sul tasto play. Se si acquista invece il film, rimarrà nella sezione apposita del proprio account Google e lo si potrà rivedere infinite volte. In entrambi i casi, Noleggio e Acquisto, l'utente dovrà aver compiuto 18 anni, avere la residenza in un paese in cui il servizio è supportato e disporre di un account Google con un metodo di pagamento valido. Qualora si avesse un coupon da utilizzare, bisogna cliccare su Inserisci il codice promozionale. Inoltre, se c'è interesse per un film che non è presente sulla piattaforma, lo si può prenotare.